Buonasera, mi chiamo Davide Condrone e presento un progetto, il progetto Camillo. Camillo è un re-show che nasce dall'idea di libertà, quindi pedalare, chiamare quelli che erano una volta i vecchi mestieri, quindi quella bicicletta e pedala, chi è che non ha ricevuto questa frase dalla mamma o dal papà? Quindi è un progetto che vuole unire anche i giovani affinché possano andare liberamente in giro per le città con un prodotto tematico, perché al momento abbiamo presentato il tema della fiera creativa, ma noi vorremmo riportare su un cappello, su una sciarpa e su un calzino il tema sociale, quindi la difficoltà che sta trascorrendo questa società e quindi la speranza che noi diamo a Camillo è che comunque possa piacere.